Nel prossimo campionato di prima categoria non ci sarà il derby tra le due squadre di Pratola Peligna, in quanto le due realtà si sono unite. Dopo la retrocessione dalla promozione, il Pratola 1910 ha rinunciato all'iscrizione per unirsi con la Virtus. Pur non essendoci stati tempi tecnici per procedere al cambio di denominazione, la nuova realtà non perderà la dicitura Pratola 1910. Verrà infatti predisposto un logo dove verranno assorbiti due simboli con l'indicazione 1910 per evidenziare gli oltre 100 anni di storia del calcio pratolano. A darle notizia sono i due presidenti, Giovanni Tofano della Virtus ed Alberto Panella del Pratola 1910, i quali fanno sapere che è stato deciso di costituire un'unica società che rappresentasse il cuore del sentimento dei pratolani, con lo spirito che l'unione fa la forza. Decisioni assunta dopo una serie di incontri a conclusione di Uniter, che ha rappresentato una collaborazione già avviata da ormai quattro anni, cioè da quando ci fu il cambio di presidenza dell'Unione Sportiva Dilettantistica Pratola Calcio 1910. Era inevitabile che dopo anni di lotte interne in un piccolo centro come Pratola si mettessero insieme tutte e due le società, una che ha una tradizione, un valore, una storia della scuola calcio pratolana, che ha dei riconoscimenti e dei titoli e una realtà di oltre 100 anni di un calcio a livello regionale. I due presidenti con l'unione mirano al consolidamento e alla crescita del settore giovanile, all'incremento delle esperienze calcistiche della prima squadra e a creare un mix di forze tra le generazioni passate e il nuovo che avanza. Era giusto mettersi insieme e creare una sola realtà calcistica nel comprensorio di Pratola Peligna che portasse avanti il nome del Pratola Calcio del 1910 e la Virtus con tutta la realtà dei ragazzi pulcini giovanissimi che ha dato tantissimo in questo comprensorio. Una collaborazione che in questo periodo di notevoli difficoltà economiche ha inoltre l'obiettivo di creare una realtà pratolana nella quale sia sempre maggiore la presenza di ragazzi provenienti dal settore giovanile. Adesso dovrà essere definito l'organigramma dirigenziale e tecnico con Alberto Panella sempre in prima fila? È sempre in prima fila però credo che sia opportuno che Tofano Nino rimanga come presidente, io lo affiancherò come co-presidente, come vice-presidente. Non è importante questo, l'importante è che il nome di Pratola vada avanti con una, ripeto, realtà dei ragazzi, giovanissimi, prima squadra e comprensivo della prima squadra. Così finisce veramente una volta per tutte una realtà come Pratola avere due squadre o in prima categoria o in seconda categoria o in promozione perché credo che sia veramente non opportuno. Vogliamo dire già in anticipo che Pratola sorgerà con quali giocatori e quali saranno i programmi? Guardi, noi abbiamo dei giocatori già tesserati con noi, sono arrivati giocatori del Pacentro come Vitone, Tosti e Iacobucci, la Virtus già aveva dei giocatori, io credo che si farà un ottimo organico per, perché no, anche vincere un campionato.